Un'emozione grandissima che voglio condividere con tutta la mia comunità. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere e in generale tutti i cittadini del Veneto. Quindi condivido con la mia comunità questo momento davvero bellissimo. L'emozione del sindaco di Treviso, prima volta vis-à-vis con un pontefice. In Vaticano a guidare come presidente Anci la delegazione dei sindaci veneti con Francesco Rucco, Jacopo Massaro e Maria Rosa Pavanello. Assieme ai primi cittadini di tutta Italia. Papa Francesco incontra i sindaci e li ringrazia. La vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti, ha sottolineato Francesco. Siete stati un punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose ma necessarie per la salute dei cittadini. E non ha rinunciato all'ironia. Mi è piaciuto molto il suo paragone dicendo io prego per voi ma voi pregate per me perché in fin dei conti sono anch'io sindaco della Chiesa e quindi sono anch'io chiamato a gestire le problematiche che ogni giorno voi vivete nelle vostre comunità. Tra le parole chiave del pontefice sindaci, poveri e periferiche da tenere sempre come obiettivo per non lasciare nessuno indietro ma non solo. È stato davvero un momento bello anche quel richiamo alla pace sociale invitando tutti ad affrontare i momenti soprattutto quelli più difficili all'insegna della solidarietà e della fratellanza e credo che siano parole davvero importanti che ci hanno toccato nei cuori e soprattutto hanno gratificato i sindaci per il grande impegno che ogni giorno riversano nei loro territori. Quella pace sociale rotta dall'odio di questi mesi è una ferita da ricucire in fretta. Da par suo il sindaco di Treviso ha chiesto al Papa un pensiero speciale per la marca. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere e in generale tutti i cittadini del Veneto che sono reduci da un periodo davvero complicato.